Accidenti, non avrei dovuto guardare quel film! Oh no, è già mattina e non ho chiuso occhio! Mannaggia! Ehi, mio tesoro! Ho un cliente! Salve, prego, entrate! Salve, dottore! Cosa mi preoccupa, mia cara? Per favore, lasciatelo aiuti! Io mangerò il tuo cuore! No, per favore, no! Sto sognando! Non può essere! Ecco qua, mi dia il cagnolino! Ora lo visito! Su, su, non avere paura! Aiuto? Forse dovrei andarmene subito! Aspetta, credo di essere solo molto assonnata! Allora, che cos'hai? Fammi vedere se riesco a capire! Di addio alla tua mamma! No! E lasciala, non toccarla! Cosa? Tesoro, sta bene! Cos'è successo? Per favore, si svegli, sta bene! Per un attimo era svenuta! Sto bene, rivolgo solo il mio cane! Certo! Eccolo qua! Può andare adesso! Buona fortuna! Ok, ecco il conto! Vediamo quant'è! Non può essere! Mi ha fatto solo la visita! Sono qui, tipo, da cinque minuti! Ho fatto dei controlli approfonditi! Siamo finalmente arrivati! Smettila di nasconderti! Vieni qui! So che paura dei dottori! Nemmeno a me piacciono! Rovinano tutto il mio lavoro! Cosa? Oh, non essere timido! Ecco, posso pagare! Wow! Quanti soldi! Grazie! Allora, perché è venuta qui? Vieni qui tu! Come posso aiutarti? Fammi dare un'occhiata! Oh, poverino! Penso che sia malato! Vede? Sembra letargico! Questo lo so già! Può fare qualcosa? Hmm, lasciami pensare! Sì, so cosa fare per rimetterlo in sesto! Non sono fighi? Te rimetterò diversi! Perfetto! Che tipo inquietante! Oh, non si preoccupi! Ancora uno e sarà come nuovo! Eccoti qua! Dunque, come stai? Sì, è vivo! Non c'è di te! Grazie, dottore! Mano caro, stai bene? Ora dammi il cinque! Grazie ancora e addio! Grazie a lei! Addio! Che bel micio! Cos'è questo odore? Che schifo! Da dove viene? Salve! Accidente! Il mio cane puzza! Dottore, per favore, mi aiuti! È davvero insopportabile! Questo piccolo vampiro peloso ha mangiato qualcosa e... Si sente! Ed è orribile! Ops, scusatemi! Non preoccuparti, devo solo mettermi una maschera antigazza! Molto meglio! Allora, cos'è successo? Che puzza! Ho provato a fermarlo, ma non mi ha ascoltato! Tutto è iniziato quando stavo dormendo beato nel mio appartamento! Quando questo piccolo diavolino ha trovato l'aio! Che buono, sì! Poi mi sono svegliato a causa dell'odore! Era insopportabile! Quando controllato nella sua camera, aveva già finito l'aio! Beh, sai che lo farà di nuovo, vero? Mi dispiace, non riesco a trattenermi! Va bene, cerchiamo di capire come fare! Adesso ci pensiamo noi! Credo di sapere come fare! Proviamo! Apri per bene! È amaro! Lo so, ma ti aiuterà! Santo gelo! Va bene! Proviamo ancora! Questa volta sarà delizioso! Mi piacerà! Che buon profumo! Che puzza! Per favore, mi sto sentendo male! Dunque dovrò optare per qualcosa di più forte! Cosa vuole fare? Ora vedrà! Quello sì che era forte! Cagnolino, tesoro! Che figo! Potresti farlo di nuovo! Certo! Grazie, dottoressa, grazie! Grazie, alla prossima! Addio e stia lontano dall'aglio! Dunque, mi servono solo alcune gocce! Dottore, per favore mi aiuti! Cosa? La febbre, per favore faccia qualcosa! Forza, me la dia, mi faccia controllare! Eccoti qua, bel vicetto! Ai! Scusa! Che male! Devo vedere se ha la febbre! Dove ha finito il termometro? No, mamma, per favore non voglio! Allacciati la cintura! Deve farlo per forza! Non si preoccupi, stara bene! È ora di toglierlo! Oh, oh! Ha la febbre alta! Ora ci penso io! Ma è proprio sicuro? Mamma, per favore! Non credo proprio, non esiste, cattivo dottore! Vai via, vai via! Non farlo, per favore, non farlo! Oh no, tesoro! Per favore, non fare del male al dottore! Volevo solo aiutare! Va bene, va bene! Ho un'altra opzione! Vede? È molto più sicuro! Voglio andare via! Va bene! Bravo, cattino! Guarda, ti piace, vero? Lo voglio! Che buon profumo! Potrei giocarci tutto il giorno! Oh, ora sta meglio! Ora sono felice! Bene! Ora arriva la medicina! Sentirei solo un pizzico, non farà male! Ehi, non mi piace questa cosa! Per favore, sia gentile! E ho fatto! Bravo, vicio! Tra poco starei molto meglio! Grazie, dottore! È stato un piacere! Piace anche a me! È davvero straordinario! Miau! Toc, toc! E sarà! Per favore, entri pure! Posso? Sì, certo! Cosa c'è? È la mia piccola! Penso sia malata! Vede, le fa male qui! Forza! Me lo faccia vedere! Ora ti controllo! Adesso ci penso io a te! Credo di sapere cosa abbia! Come sta? Starà bene! Un secondo solo! Non si preoccupi, non farà male! Sì, proprio come pensavo! Cosa? Può aiutarla? Sì, sì, certo! Non richiederà nemmeno tanto tempo! Posso fare adesso! Per favore, non farla del male! Si rilassi! Devo solo liberarle lo stovaco di tutta questa robaccia! Quanta roba! Vede, ora starà meglio! Ti ho detto di non devorare tutto ciò che trovi! Buona fortuna! Uh, è così disordinato qui! Ho finito! Accidenti, devo chiamare il veterinario! Eh? Chi sarà? Pronto? Per favore mi aiuti, il mio cucciolo è scomparso! Non so cosa fare! Sto arrivando, non si preoccupi! Questo è un lavoro per un supereroe! Non avere paura, piccolino! Ti salverò io! Oh, lo vedo! Eccoti qua, piccolo! Si era nascosto! Ehi, rimazzimi giù! È ora di tornare dalla mamma! È disperata! L'ho trovata! Oh, grazie, il mio tesoro! Grazie al cielo, stai bene! Non devi più allontanarti! Adoro le sorprese, sì! Ah, che bello scherzo! Vai, vai, vai! Dammi il tuo dito, tesoro! Ora attenta, non spiare! Guarda la sorpresa! Una bella coda! Il titolo marrone! Aspetta, cosa? Oh, mi avete preso un cane! Oh, ma com'è soffice! Beh, non ce ne è ben accorta! Se vorrei tenerlo, dovrei prenderteli cura! Sì, sì, conosco già alcuni gadget che fanno il caso nostro! Bene, Grace, sappi che dovrai darti da fare! Io? Le tue zampette sono sporche, devo pulirle! Con questo sarei bello fermo e io potrò lavarti le zampe! Non preoccuparti, mi prenderò cura di te! Cuffia da bagno! Oh, ma andiamo! Sono ridicolo! Ma io sono un artista! E ora puliamo le zampette sporche? Eh, ma anche no, grazie lo stesso! Oh no, sei troppo grande per il lavandino! Oh! Forse dovrei usare un gadget, eh? So cosa fare! Con questo le sue zampe saranno subito pulite! È una specie di lavatrice per le zampe! Devo solo metterci dentro un po' d'acqua! E ci metterò dentro una zampa sporca! Eh? Cos'è quel marchigegno? Le mie preziose zampette! Oh, ma non fa male! In effetti è piuttosto rilassante! Ah! Bene, è pulita! Ed è stato facile! Fammi togliere l'acqua! Quest'acqua è sporchissima! Oh, che paura! Ecco perché dice di cambiare l'acqua ogni volta! Facilissimo! E ora fammi continuare! Rocky! Dove sei? Sono qui! È così faticoso essere un artista! Ora mi serve un gadget per pulire il divano! L'ultima unghia! Sono bellissime! Così perfette! Sì, che bel gadget per le unghie! Ah, mi è venuta un'idea! Nail art per cani! Oh, dai, umano! Io volevo solo un osso! Tocca a te! Ma lasciami in pace! No! No! Le mie preziose zampe! No! Ah, come posso distrarti! Oh, ma certo! Ho quello che serve! Oh, sì! Questo tappetino ci aiuterà! Ho sentito che è ottimo per stimolare i sensi! Devo solo applicare qualcosa per cui Rocky va matto! Ah? La panna montata! Buonissima! Gnam, 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 gnam! Però preferisco il burro di alacchidi! Oh, bene! Se rimane distratto posso dipingergli le unghie! Ah! Ma lo devo tenere fermo in qualche modo! Forse questo cappello potrà tornarmi utile! Sì! Ah, un cappello! Ecco la tua panna! Puoi leccarla! È troppo bello per essere vero! Sarà sicuramente una trappola! È ora di dipingere! Eh, umana! Cerca di fare un buon lavoro laggiù! Ah, sarai così elegante! Eh? Ehi, un'ultima leccata! Guarda! Adesso entrambi abbiamo le unghie fatte! Ok! Che diavolo! Il mio cappello! Che buon odore! Panna montata? Buonissima! Dovrei aprire una pensione per cani! Sono troppo brava! Che cosa? Peli di cane! Come ci sono arrivati qui? Oh no! Ma sono ovunque! Erochi! Hai bisogno di una bella spazzolata! Io? Ma ti sei vista? Questa è per gatti! Ma sono sempre peli! Quindi proviamola! Non muoverti, Rocky! Erochi! Non funziona! I peli sono ovunque! Proviamo questo gadget qui! Non credo che faccia tanto casino! Oh sì! Molto meglio! La sfattura è molto meglio della mia lingua! C'era un sacco di pelo! Ma questo gadget ha fatto bene il suo lavoro! Eccio! Invece di buttarli via li ricicleremo! Guarda! Ho un capello fatto di peli! Ah! Voi umani! Anche io ne ho uno! Cappelli abbinati! Eh... Tesoro! Eh... Hai un capello di peliccia? È ora di fare un bel trattamento di bellezza! Guarda il tuo nuovo accappatoio! Bello! Mi piace! Non è fighissimo! È come quelli che usiamo noi umani! Quando potrò rilassarmi? Dov'è il mio bagnetto caldo? Guarda! Il mio massaggiatore! Così rilassante! Sì, sento che il mio viso si sta rilassando! Adesso tocca a te, Rocky! Massaggio alle zampe? Oh sì! Oh! Sono in paradiso! Quanto mi piace! Oh! Sembri così rilassato! Anch'io voglio un massaggio! Tocca a me! Ok! Sono un vero professionista! Ah, che bello! Ora a destra per favore! Rilassati e se senti un crack allora sto facendo bene il mio lavoro! Ma cosa sta... Oh! Oh, ma guardali! Sono così carini! Oh! Ah, che noia! Rocky, andiamo a fare una passeggiata! Ma prima hai bisogno di un bel vestito! Grande! Un nuovo vestito e una passeggiata! Che bella giornata! Ah, pensi che questo colore si abbina ai miei occhi? Ah! Avremo dei bellissimi vestiti abbinati! Ora... Devi provare le tue nuove scarpe! Queste fantastiche scarpe manterranno le tue zampe pulite e sicure! Te le devo prima infilare e poi allacciarle intorno alla tua zampetta! Ah! Scarpe nuove! E ora anche le scarpe sono abbinate! Oh! Non siamo carini! Pronto? Andiamo! Rocky, ho delle prelibatezze per te! Oh! Rocky! Ehi, Grace! Guarda cosa ho trovato qui dentro! Oh no! Il mio cuscino preferito! Ups! Oh! Non preoccuparti, lo aggiusterò! Ma ho una sorpresa per te! Questo cuscino serve per stimolare i tuoi sensi! Nasconderò alcune prelibatezze sotto le carote! Tu dovrai scavare per trovare! Facilissimo, Grace! Amo scavare! Dove sei, prelibatezza mia? Aha! La trovate così buone! Stupide carote! Ho vinto! Sì! E io ho aggiustato il cuscino! Guarda, Rocky! Rocky! E là! Mi stavo annoiando a giocare con le carote finte! Oh! No, Rocky! Com'è buona quest'acqua! No, 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 no! Quella non è da bere! Te ne darò dell'altra! Eh! Cercherò per te un gadget speciale! No, no! Lo voglio! Consegno! Oh, che velocità! Firmi qui, per favore! Fatto! Grazie! Oh, guarda, Rocky! Apriamola! Ed è blu! Oh, adoro il colore blu! Proviamo questo nuovo gadget! Questo coso va qui? Sì! E ora riempirò questa fontanella d'acqua! Oh, Rocky, l'adorerai! Chissà quant'acqua ci può entrare! E accenditi! Sì, funziona! Wow, che bella fontanella! Ma è troppo sofisticata, no? Cosa? Vieni qui, Rocky! Oh, Rocky! Invece quest'acqua mi piace molto! Non di nuovo! Ehi, Rocky! Vuoi giocare? Di nuovo quel gioco! Non esiste! Va bene! Che mi dici di questa? Ti piace questa palla? Noia! Io me ne vado a dormire! Ah, ok! Allora proviamo un nuovo gioco! Questo si chiama Triss! Rocky, tu devi fare Triss! Facile, facile! Tu fai le X e io i cerchi! Buonissimo! Vai, scegli il tuo gioco! Cominciamo da questo! Va bene, metti la X! Oh, aggressivo! Io voglio questo! Stai giocando con il fuoco? Ecco! Oh, penso che qui andrà bene! Ah, così vinco io! Avrei dovuto saperlo! Ah, che umana buffa! Wow, hai vinto! Questa medaglia è per te, campione! Lo devo ammettere, è stato divertente! E sono anche il campione, sì! Tesoro, sei stata così brava con il cane, quindi ti abbiamo preso un coniglio! Evviva! Oh, sì! Ho sempre voluto un coniglio! Grazie ad entrambi me ne prenderò cura! Sì! Oh, ti chiamerò Bunny! Sei così soffice! Oh, no! Ma dove sono? Io non sono Bunny! Mi chiamo Letizia! Aiuto! Ho un parco giochi perfetto per te! Sapevo che un giorno lo avrei usato! Un circuito di tunnel per il mio Bunny! E si espande! Posso connetterli e farne uno enorme! E posso fare un labirinto con diversi giocattoli! Lo adorerà! E ora giochiamo, coniglietto! Cosa? Cos'è questo? Un enorme labirinto! Oh, respira! Ciao, coniglietto! Cosa tu? Sono Letizia! Ehi, perché tutti pensano che questi colori siano rilassanti? Oh, che carino! Oh, ma è ovunque! Pensa, Letizia! Tra buona via d'uscita! L'aria è fresca! Ora devo scappare! Qui, coniglietto! Oh, sei così intelligente! Sì! Oh, lo stress mi fa cagare! Scusa! Ciao, Bunny! Cosa sono queste piccole palline? Il cibo di Rocky! Oh, ma non è cibo! Rocky, no! Mi hai cambiato cibo? Sì, è diverso! No, Rocky! Non devi mangiarlo! Devo pulire tutto quanto! Fortunatamente ho questo gadget! Aspetta qui, Rocky! Eeeh! Non voglio toccarla con le mani! Userò i piedi! A sinistra e ora a destra! Mocio pantofole! Hanno anche un bel aspetto grande! E ballo! Ballerò su tutto il pavimento per pulire il casino! Sì, le pantofole rendono tutto più facile! Sì! Woo! Oh, cosa? No! Oh, mi sono fatta male! Ora buzzo! Non è affatto divertente! Oh, tu piccolo, adorabile coniglietto! Come sei carino! Oh, sei così dolce e hai un buon profumo! Puoi chiamarmi Bunny! Oh, il mio Rocky! Oh, prima ma vi abbracciavi solo me! Tieni qui, Rocky! Hai detto me? Davvero? Oh, quanto mi sei mancata! Ho abbastanza amore per entrambi! Oh, accidenti! Mi piace quando vi gratte lì! Ti adoro! Io vi amo entrambi! Oh, ma certo che sì! Ho un cane! Dov'è il tuo... Milady prezioso! Ci sarà un numero di telefono! Ricco gioiello di lusso dorato! Niente numero di telefono! Quindi? Sì! Ho un cane! Ho un cane! Ho un cane! Benvenuto a casa! Ma come farò a intrufolarti? Niente cadi in casa mia! Non funzionerà! Io lo so! Vado in bagno! Bravo, cane! Tesoro! Va tutto bene? Sì! I tacos non erano buoni! Ok, tesoro! Oh no! Hai fatto la cacca! Quello è il tappeto preferito della mamma! Io... Sei uno strano cane ricco! Ti chiamerò diamante! Lo so un po' della mamma! Oh no! No, Lì! Spregati! Oh no! Oh no, 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 no! No! Ciao, mamma! Oh no! Dove dormirai? Ti ho fatto un letto! Che carino! Beh, fa niente! È l'ora della passeggiata! Oh, non nel passeggino! Ah, so io cosa fare! Eccoti qua! Ok! Oh, va bene! Sofisticato! È ora di mangiare! Oh! Nham, nham! Oh! Eh... Credo che non sia la tua altezza! Eh... Oh! Vuoi provare le salsicce? Mm... Oh! Oh! Veramente! Non ho altro! È di papà! Finalmente! È ora di pulire! Ora di cena! Oh no! Benzioso! È ora di giocare! Prendi! Proviamo un altro giocattolo! Livello completato! Hai completato il livello più difficile! Ottimo lavoro! Abbaia al tuo cane! Wow! Diventeremo popolari! Cosa? Nel live stream? Oh! Oh! Wow! Sei già una star di TikTok! È ora di allenarsi! Dammi la zampa! Siediti! Straiati e respira! Bravo cane! Ripeti dopo di me! Siediti! Zampa! Bravo cane! Fai il morto! Ehi! Guarda me! Guardare cosa? Oh! Faccio stretching! Anche io dovrei fare qualche esercizio! Diamante! Ciao, papà! Devi metterti a dieta! Hai ragione, tesoro! Hai proprio ragione! Dobbiamo fare qualcosa per tutti questi peli! Oh! Stai spattolando un cane! Un cane? Oh! Ciao, papà! Sto solo giocando! Oh! Devo smettere di mangiare zucchero! Dobbiamo andare dal tuo elettatore! Abbi cura di lui! Certo! Grazie! Una nuova acconciatura, per favore! Un nuovo look! Ok! 50, per favore! Tieni il resto! Ciao, piccolo! Ecco il conto! Che cosa? Non ho tutti questi soldi! Oh! So io che cosa fare! Quante cose faccio per te, diamante! Mamma! Che c'è? Papà! Papà! Cosa? Chi c'è lì dentro? Ah! Così, aiuto! Aiuto, per favore! Hai sentito qualcosa? No, io non sento nulla! Ah, non importa! Biscotti per cani! Ci sei cascato! Guarda! Molly! Beccata! Non bussate! Oh, scusa, tesoro! Voglio un biscotto! A ognuno il suo! Buongiorno, diamante! Diamante! Dove sei? Diamante! Oh! Diamante! Oh! Diamante! 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 Oh! Il cane! Diamante! Posso spiegare? Riportalo a casa sua! Oh! Ok! Ok! Vieni con me! Wow! Oh! Wow! Mille e di favoloso ricco gioiello di lusso dorato! Hai una casa molto bella! È la casa del cane! Del cane? Fabi la scatola! Certo! Prendilo! Oh mio Dio! Vi prego aiuta! Qualcuno mi aiuti! Oh mio Dio! Sei il miglior cane di sempre! Accidente figliolo! Cosa è successo? Ah ma questo cane mi ha salvato! Possiamo adottarlo? Oh ma certo! Fammi uscire! Che cosa vuoi? Eravamo fuori un attimo fa! Ma me scappa adesso! Ti porto dei giocattoli! Non posso più resistere! Sono tornato! Te l'avevo detto! E ora come faccio? Io me nevo di spiaggia! Ah! Adesso andiamo a prendere delle caramelle! Forza cagnolone e... Pavimenti puliti! Il sistema si sta spegnendo! Dobbiamo uscire da qui! Ti faccio vedere io! Aspetta! Cosa credi di fare? Fermo! Ti ho portato un accappatoio speciale! E degli shampoo! Starà scherzando! Forza cagnolone! Prendi! Accidenti! Non posso nemmeno fare una doccia da solo! Perché mai non vorresti fare il bagno? Vuoi che mi risca a te? Forza! Mamma dice di lavarsi! Hai bisogno di un po' di... Ci penso io! Lei sa cosa fare! Fallo anche a me! Accidenti! Non sembro mica così stupido! Goditi il tuo pasto! Che c'è bello? Hai paura della ciotola per gatti? Ragazzi! Forza! Siediti accanto a me! Essere portato in giro! Che spasso! E quindi Blake? Questa è la tua stanza! Vai! Oh, com'è comodo! Potrei addormentarmi in qualsiasi momento! Ho tanto sonno! Cos'è successo qui? Cos'è successo? Oh no! Questi sogni sono fuori controllo! È ora di riposarsi! Blake! Poverino! Non posso lasciarti così! Ora sistemo tutto! Perfetto! Questa donna pensa a tutto! Ho bevuto troppa acqua oggi! Oh! Che bello! Ok! Ora posso tornare a dormire! Blake! È ora di riprescarsi! Non mi serve questa roba! Non sono umano! Come cano dei diritti, ok? Non puoi portarmi qui e pensare che... E questo cos'è? Che succede? Bello! Voglio andare via! E devo anche fare la cacca! Oh! Vuoi che ti spuntino il pelo? Oh sì! Ma certo! Non capisci proprio niente! Non è così? Dove sei? Tranquillo! Sono qui! Che bello! Chi sei tu? Fai attenzione con quelle! Incredibile! Cinque euro per favore! Beh, te li meriti! Ah! 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 I'm the king of the world, it took me so long, yeah I've found the king, I'm the cool guy you heard, I want you to belong, only to me, I'm sure what I can do. Buongiorno Blake! Wow, non mi ero mai svegliato così presto! Dai Blake, andiamo! Sveglia, sveglia, sveglia! Oh, dove sono? Devo trovarli! Signora, signora, suo figlio non c'è più! Non preoccuparti, Blake si è già svegliato! Buongiorno! Va bene, allora io vado a fare la colazione! Non c'è bisogno! Che cosa? Non ti preoccupare, è stato Blake a prepararla! Oh, che capolavoro! Questo è il mio lavoro, nessuno può farlo meglio di me! Conosco la tua debolezza! Questo non è ciò che intendevo! Ecco cosa intendevo! Questo dovrebbe andare bene! Ma quello è un dolcetto! Ma guarda quanti! Quindi ora sei tu il preferito qui, eh? Ops! Ma è pazzita! Come vai, vorrebbe... Cos'è successo qui? Blake! Che cosa hai fatto? Blake? Non sono stato io, è stata lei! Vediamo chi mente! Oh no! Oh no! Sei licenziata! Non pagherò per quello! Ti piace questo? O forse questo? Ragazzi, sono così stanco di tutto questo! È stato via per così tanto tempo! Sei questo? Qualcuno sta chiamando! Dove è andato? Becno! Oh, eccoti finalmente! Cosa ci vai con lui? Hai trovato il mio cane! Sì! Sono stato io! L'ho trovato io! Non ora, Leo! Chiedile di uscire! Oh, sì, sì! Ti va una passeggiata? Oh, sì! Mi hanno appena lasciato qui? Ragazzi, aspettate! Oh, le azioni di Lala Salsiccio sono scese di prezzo! Blake! Blake! Oh, eccoti! Domani andremo a scuola! Ma ci serve un buon travesti vini! Questo non funzionerà! No! Devo aiutarlo di nuovo! Come posso riuscirci? Oh, Blake! È un'ottima idea! Andiamo a scuola! Ho sempre voluto vedere la scuola! I cani non sono ammessi! Niente merende a scuola! Vai dentro! Non ti darò le mie patatine! Oh, buongiorno, signor Presidente! Qualche cane oggi, Gary? No, signore! Bene! Niente cane nella mia scuola! Scusi! Hai bisogno un po' d'aria! Sento un odore delizioso! Blake, no! Preso! Le allergie! Qualcuno ha portato un cane? Cosa c'è nella borsa, eh? Potrebbe far freddo stasera! Achiu! Allontanalo! Sì, signora! Salve, ragazzi! Ditemi, qualcuno ha portato un cane? Oh, ho così tanta fame! Prima o poi, troverò il cane! Tutti i cani! Amano i dolcetti? Cos'è questo? Perché è qui? Vai, 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 vai! Vai, d'intro, vai! Bingo! Oh, c'è qualcuno! Ora non devo appagliare! Non sono riuscito a trattenermi! Preso! Blakey! Guarda che ho trovato! Il cane deve andare a casa! E tu? In pulizione! Guarda! Questo! È la tua prima volta qui? No! Wow! E io ho portato il mio cane una volta sola! Tu hai un cane? Ah, io adoro gli animali! Guarda! Ma chi è bravo? Buccio, buccio, buccio! Buccio, buccio! Buccio, 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 buccio! Non c'è una via d'uscita! Oh, ho esagerato di nuovo! Ne metterò di meno la prossima volta! Eh? Zacca, ha bisogno del mio aiuto! Non riesco a guardarlo! È così triste! Devo prendere la chiave! Uno, due, tre, biscotti, quattro biscotti, tanti biscotti! Oh mio Dio! Eh? È stato più facile di quanto pensassi! Ma perché assumono queste persone? Oh mio Dio! Blake! Stati indietro, stupidi mostri! Tech, siamo in trappola! Non preoccuparti, piccola! Sei il mio eroe! La ragazza di miei sogni! Scusa, i cali non sono ammessi a scuola! Ciao, Luna! Guarda come sono carini! Sono così carini! Così carini! Guarda quello, com'è felice! E quell'altro! Non riesco a vedere! Le azioni di Lola Salsiccio sono scese di prezzo! Blake! Blake! Oh, eccoti! Domani andremo a scuola! Ma ci serve un buon travesti vini! Questo non funzionerà! No, devo aiutarlo di nuovo! Come posso riuscirci? Oh, Blake! È un'ottima idea! Andiamo a scuola! Ho sempre voluto vedere la scuola! I cali non sono ammessi! Oh! 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 Niente merenda a scuola! Vai dentro! Non ti darò le mie patatine! Oh! Buongiorno, signor presidente! Qualche cane oggi, Gary? No, signore! Bene! Niente cane nella mia scuola! Oh! 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 Sì! 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 Hai bisogno un po' d'aria! Sì! Un odore delizioso! Blake, no! Preso! Le allergie! Qualcuno ha portato un cane? Cosa c'è nella borsa, eh? Potrebbe far freddo stasera! Allontanalo! Sì, signora! Blake! Ti sento davvero? Va bene, va bene! Ok, bene allora! Non può vedermi così! Almeno non mi ha visto conciotto così! Hai un cane? Sì! Possiamo accarezzarlo? Sono come bambini piccoli! La via è libera! Ehi! Ok Blake, andiamo! Andiamo! Che bravo! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Devi nasconderti da qualche parte. Siediti qui e stai in silenzio. Poteva lasciarvi qualcosa da leggere. Non avrei dovuto mangiare quel panino. Mi hai salvata. Sì, forse ti vado a uscire qualche volta? Sì. Ci vediamo al parco alle cinque. Non fare tardi. Sì. Perché il pavimento è bagnato? Qualcuno ha portato un cane? Chi è ancora? Bravo, fatti da fare i tuoi. Scusate, ho le allergie. Dove sono i miei occhiali? Comunque, qual è la risposta di due su quattro? Ma è esatto. Certo. Salve, ragazzi. Ditemi, qualcuno ha portato un cane? Oh, ho così tanta fame. Prima o poi, troverò i cani. Tutti i cani. Amano i dolcetti? Cos'è questo? Perché è qui? Vai, 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 vai. Vai d'intorno, vai. Bingo. Oh, c'è qualcuno? Ora non devo appagliare. Non sono riuscito a trattenermi. Preso. Blakey? Guarda che ho trovato. Il cane deve andare a casa. E tu? In pulizione. Guarda. Questo. È la tua prima volta qui? No. Wow. E io ho portato il mio cane una volta sola. Tu hai un cane? Ah, io adoro gli animali. Guarda. Ma chi è bravo? Bucci, 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 bucci. Bucci, 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 bucci. Non c'è una via d'uscita. Oh, ho esagerato di nuovo. Ne metterò di meno la prossima volta. Eh? Zacca, bisogna del mio aiuto. Non riesco a guardarlo, è così triste Devo prendere la chiave Uno, due, tre, biscotti, quattro biscotti, tanti biscotti, oh mio Dio! È stato più facile di quanto pensassi Ma perché assumono queste persone? Blake! Sei mio salvatore! Sbricchiamoci! Luna, mi aspetta! Ehi, sei in ritardo di tre minuti! Scusa, ho avuto un problema Oh no! Allontanalò da me! Pensavo che avassi i cani No, io amo i gatti! Il cane mi ha rovinato le scarpe! Questo appuntamento è rovinato! No, fermati! Luna! Blake! Blake! Oh, che carino! È tuo! Anch'io ho un cane! Oh, che carino! Come ti chiami? Eh, si innamora sempre degli amanti dei gatti E deve aiutarlo persino a trovarsi una fidanzata Ah, dovrei darti una bella pulita Vediamo cosa è qui Sara, sei pronta? Lily! Papà, mi sto lavando i capelli A cinque minuti, per favore Cinque minuti Ah, capito! Lily! Papà! Ops! Sei piuttosto pesante Ah, sapo per veri uomini Ah, sono così felice di averti incontrata Cosa ti è successo, Sara? Ok, ordiniamo del cibo per cani Il corriere arriverà domani alle nove Buongiorno, papà Dove sono le mie scarpe? Non lo so Cosa fai? Basta, dalla me Oh, grazie Lily, dov'è la mia cravatta? Grazie Ecco la tua cravatta Lasci le tue cose ovunque Lily! Dov'è il mio blazer? I miei capelli stanno cadendo per lo stress Cibo per cani in consegna Ma non abbiamo un cane? È un peluche Scusaci Allora c'è un... Cibo per cani? Seriamente? Per un peluche? Aspetto! Spero che papà non sia ancora tornato Ehi! Vieni qui! Sì? Dove posso nasconderlo? Perfetto! Ehi! Vuoi fare una passeggiata? Andiamo! Oh no! Sembra che dovremo trovare una nuova casa per Sara Questi cereali scottati hanno un sapore strano ma... Mi piacciono! Che cosa? Buongiorno tesoro mio! Lili svegliati! Dai Lili! Svegliati Lili! Svegliati! Buongiorno Lili! Buongiorno papà! Fermati! Svegliati! Papà? Cos'è che non va? Ho bisogno di dormire di più! Sara! Dove sei? Oh! Oh! Eccoti! Aspetta! Lo sapevo! Oh no! Mi hai mentito per tutto questo tempo! Oh! Mi dispiace papà! Non puoi mentire ai tuoi genitori! Oh! Oh! Non è giusto! Dai! 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 Vai! Avanti! Fuori di qui! Vai! Vai! Aspetta! Cane! Dai! Aspetta! L'ho persa! Come hai potuto perderla? Mi manchi! Ma non hai un cane? Sì! Non ho più... Cane! Cosa? È stato un lungo viaggio! Oh! Oh! Ciao tesoro! Sei così bella! Sai mia figlia vuole un cane! Vieni con me! Dai! Oh! Salve signor Smith! Un cane! Ma non hanno un cane! Oh! Mi dispiace! Papà era felice con me! Oh! Tesoro! Oh! Tesoro! Oh! Le serve una casa! Facciamola vivere con noi! Papà! Per favore! Dai! Ma certo! Certo! Evviva! Grazie! Andiamo a fare una passeggiata! Andiamo! Tesoro! Che c'è? È molto saporito!